Secondo il Consiglio Bollettino emanato dalla Regione Campania, sono 662 tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore, di cui 637 sintomatici e 25 sintomatici su 8.747 tamponi esaminati. Sono 44 le persone decedute, di cui 13 nelle ultime 48 ore e 31 in precedenza, ma registrate ieri. Secondo il Consiglio Report della Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, 202 persone sono attualmente positive al Covid-197 di essi in isolamento domiciliare, 5 ricoverate. Invece nella città di Eboli, sulla pagina social del Comune, viene riportato che in base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asra diretto dalla dottoressa Anna Maria Nobile, il numero complessivo dei positivi al Covid-19 ed in isolamento domiciliare è pari a 292. Intanto il Ministro per gli Affari Generali Francesco Boccia ha convocato per giovedì mattina una nuova riunione con le Regioni Lanci e Lupi per fare il punto sulle misure che andranno nel nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio. All'ordine del giorno dell'incontro, un'interrogazione sul piano dei vaccini. Intanto riaprono bar e ristoranti in attesa dei colori e delle decisioni che saranno prese per le varie Regioni.